Ad incastrarlo sarebbe stato proprio l'abbigliamento utilizzato durante l'omicidio di cui l'uomo si è subito disfatto dopo il delitto, ovvero una maglia blu, pantaloni neri e canotta ritrovati dai carabinieri in un sacchetto di plastica abbandonati durante il percorso di fuga e ritrovati in via Mameli. Attraverso la visione delle telecamere di videosorveglianza i carabinieri hanno concentrato l'attenzione investigativa su un soggetto visto transitare nei prezzi della tabaccheria con indosso oltre all'abbigliamento di cui si è disfatto anche un berretto con visiere ed una mascherina anti-covid. Acquisendo ulteriori immagini della videosorveglianza sono riusciti a risalire al luogo dove lo stesso si è disfatto degli abiti indossandone altri puliti. Il marocchino è stato poi riconosciuto da un barista nei pressi della stazione ferroviaria. Stando a quanto emerso dal racconto del legale difensore l'avvocato Nicola Totaro, il marocchino è raggiunto affoggio all'11 luglio alloggiando presso un dormitorio comunale e lavorando come bracciante presso l'agro di Torre Maggiore senza un guadagno costante e puntuale. Avrebbe frequentato in alcune occasioni la rivendita per fare alcuni acquisti e la mattina del 28 agosto, sempre secondo la ricostruzione del legale, avrebbe deciso di compiere la rapina perché in gravi difficoltà economiche. Rapina poi degenerata nel delitto della 72enne a cui sarebbero state inferte quattro coltellate, due alla gola e due all'addome. Il legale sottolinea che il marocchino si è messo a disposizione dell'autorità giudiziaria sottolineando che non aveva alcuna volontà di uccidere la vittima. Innanzitutto il mio cordoglio va alla vittima di questo reato. Questo reato nasce in un stato di profondo degrado. Il signor Musli Reduane era venuto da pochi giorni a Foggia dal mese di luglio per cercare di trovare lavoro. Lavorava in agro di Torre Maggiore come bracciante agricolo nella raccolta dei pomodori. Purtroppo questa situazione ha fatto sì che la mancata regolarizzazione del rapporto di lavoro, il mancato pagamento della ritribuzione ha pensato di fare una rapina. Questa rapina purtroppo è andata a finire in malo modo. Non aveva alcuna intenzione di uccidere ma è proprio la dinamica dei fatti che potrebbero escludere nell'ottica difensiva la sussistenza dell'omicidio volontario in favore magari di un'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale. Adesso siamo in attesa della convalida del fermo. Io credo che massimo entro fine settimana ci sarà l'udienza di convalida del fermo davanti in anzi al GIP e poi vedremo gli ulteriori sviluppi investigativi e indagini preliminari e cosa porteranno. Grazie a tutti.